da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre a Caliano si tengono il 46esimo palio ragliante e la prima sagra autunnale dell'agnolotto d'asino venerdì grande novità cena con salamini e agnolotti d'asino concerto di Sir William sabato dal pomeriggio fiera passeggiate giochi per bambini serata danzante con salsa bor cena con salamini e agnolotti d'asino a mezzanotte sorteggio batterie eliminatorie del palio domenica ore 14 e 30 sfilata del corteo storico ore 16 e 30 si corre il palio ragliante distribuzioni agnolotti serata danzante con Luigi Gallia lunedì fiera zootecnica e agri meccanica partita di tamburello nel pomeriggio grazie a tutti